Ci vuole poco per morire nella Napoli delle gang impazzite e non importa se sei un camorrista o un meccanico. Giuseppe Esposito, 57 anni, di Marano per tutti peppo meccanico, incensurato, aveva preparato tutto per il matrimonio di Filippo, suo figlio trentenne, un ragazzo apposto, nella sua vita una sola macchia, un arresto per rapina tanti anni fa, quando era giovanissimo, poi nulla, casa e lavoro. Quando Giuseppe ha visto entrare il killer, pistola in pugno e casco integrale, ha capito, ha compreso in un istante che quella tranquilla giornata in officina stava per tramutarsi in tragedia. Ha capito, ma non fino in fondo, perché lui, perché suo figlio, ha cercato di coprire Filippo, si è frapposto tra la pistola e il suo ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare. Un duplice delitto, quasi inespiegabile, in realtà sostengono gli investigatori, una vendetta trasversale, un doppio assassino in risposta di un altro doppio assassino, quello del 22 aprile, quando in via Fontanella e cuore del rione Sanità, un comando ha freddato Giuseppe Vastarella, di 42 anni, e il cognato Salvatore Vigna. Una vendetta dei Vastarella, dunque, è una risposta a quella strage. La seconda, perché anche l'omicidio di Agnello Esposito, ammazzato in via Janfolla a Miano, potrebbe rientrare nella stessa strategia di sangue. Ma perché Giuseppe Esposito e suo figlio? Filippo è cugino di Antonio Genidoni, un pregiudicato ritenuto elemento di spicco del clan Esposito Genidoni Mauro, che opera nel rione Sanità, la zona contesa con i Vastarella. Antonio Genidoni, in libertà da poco, è anche il figliastro del boss Pietro Esposito, ucciso nel novembre del 2015, sempre nel rione Sanità. Ma non solo, Filippo ha anche un fratello, Emanuele, di 22 anni, pregiudicato e non proprio tutto casa e lavoro. Il ragazzo si è fidanzato con la figlia di Pietro Esposito, il capoclan ucciso. Semplici parentele, scarsissime frequentazioni, eppure sono bastate per armare la mano del killer.